La vecchia casa comunale di Flumeri sarà abbattuta e proprio in quest'area sarà realizzato il nuovo edificio a servizio delle associazioni di protezione civile e del centro COC comunale. Una struttura su tre piani per 800 metri quadrati che sarà finanziata per 740 mila euro da fondi della regione Campania, mentre una quota minima spetterà al comune di Flumeri. Abbiamo chiesto ed ottenuto un contributo per la realizzazione di una sede COC della protezione civile, questo perché riteniamo che la protezione civile sia fondamentale all'interno delle nostre piccole comunità, immaginando appunto che le emergenze debbano essere gestite da persone professionali dal punto di vista della protezione civile, non improvvisate all'ultimo minuto quando l'emergenza si verifica. I lavori sì dovrebbero iniziare nella primavera del 2018, io uso il condizionale quando parlo di lavori pubblici perché si sa che c'è sempre la possibilità di uno slittamento, la cosa però fondamentale è che il contributo è stato concesso, il decreto è del 7 dicembre 2017, tutti i fondi sono stati istanziati e ci verranno trasferiti tutti insieme in un'unica soluzione. Quindi da questo punto di vista c'è copertura finanziaria, i fondi non mancheranno, l'unico problema può essere rappresentato dalle pratiche burocratiche che possono rallentare un po' l'iter, ma su questo siamo pronti anche ad affrontare questa problematica. È una struttura nuova, è una struttura adeguata sismicamente, quindi anzi questo ha usufruito di un finanziamento proprio per il rafforzamento e l'adeguamento sismico delle strutture. Questa poi addirittura verrà abbattuta, quindi è fatta da zero, quindi sarà fatta secondo le necessità, ripeto, della protezione civile. Quindi noi siamo una componente della protezione civile, perché in questa struttura andrà anche alloggiato il COC, quindi il centro operativo comunale, dove il sindaco insieme col comandante dei vigili, l'ingegnere capo e altri saranno davanti ad un tavolo in caso di emergenza.